L'amministrazione comunale di Lucera, con la collaborazione e il sostegno del Rotary Club di Lucera, avvierà a partire dal 1 maggio 2021 una campagna di sensibilizzazione alla tutela dell'ambiente contro l'abbandono indiscriminato dei rifiuti. L'iniziativa tende a responsabilizzare la collettività alla problematica e si rende necessaria perché purtroppo non sempre sono rispettate le disposizioni sulla corretta raccolta dei rifiuti, come dimostrato dal rilevante numero delle sanzioni elevate ai trasgressori. L'iniziativa sarà realizzata tramite la diffusione di messaggi video sui canali social e tv e mediante pubbliche affissioni negli spazi dedicati.